E da Washington il Presidente Trump con un tweet cavalca la protesta dei gilet gialli. Il corrispondente da New York, Dario Laruffa. Il Presidente degli Stati Uniti si schiera dalla parte dei gilet gialli. Lo fa perché collega la loro protesta originaria per il rincaro delle imposte sui carburanti alla sua battaglia contro gli impegni per combattere il riscaldamento del pianeta. Trump scrive su Twitter Un giorno e una notte molto tristi a Parigi. Forse è ora di restituire il denaro alla gente sotto forma di tasse più basse? Trump ha fatto uscire gli Stati Uniti dall'Accordo Mondiale sul Clima, Parigi 2015. Lo definisce ridicolo e costoso. L'Accordo di Parigi non sta funzionando così bene per Parigi. Proteste rivolte, molto denaro va ai paesi del terzo mondo, spesso governati in maniera discutibile. La gente scandisce vogliamo Trump, amo la Francia, conclude. Al di là delle cortesie formali, il rapporto fra il sovranista Trump e il globalista Macron non ha mai funzionato. Alle celebrazioni della Grande Guerra, il presidente francese parlò contro i nazionalismi. Quello americano gli rispose con una sfilza di tweet sarcastici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.